Il 22 novembre 2009, al termine del discorso di convocazione e benedizione, Bhagavanna ha chiesto agli studenti laureati di cantare una canzone. La gratitudine traboccante nei loro cuori si riversò nella forma di una canzone veramente speciale. Il 22 novembre 2009, al termine del discorso di convocazione e benedizione. Il 23 novembre 2009, al termine del discorso di convocazione e benedizione del discorso di convocazione e benedizione del discorso di convocazione e benedizione. Il 23 novembre 2000, al termine del solanisseni e benedizione del discorso di col nome altre canzone al termine del discorso di convocazione e benedizione del discorso di convocazione, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.